buonasera benvenuti e benvenuti a tutti io sono Tommaso Perrone direttore di Livegate giornalista che si occupa da clima da ormai più di un decennio con me Ferdinando Cotugno anche lui giornalista freelance che però si occupa di clima soprattutto per domani entrambi curiamo una newsletter che nel tempo ci ha dato diverse soddisfazioni ci ha dato anche la possibilità di approfondire contenuti che spesso e volentieri altrove non si può fare la newsletter che curo da oltre quattro anni si chiama proprio il clima italiano ed è da qui da questo che ci siamo partiti che ci ha ispirato proprio per creare questo ciclo di incontri invece Ferdinando cura da tre anni ormai una newsletter che si chiama Areale di cui peraltro oggi è partita anche la versione podcast se qualcuno di voi apprezza anche quel formato io però prima di partire entrare nel vivo vi farei subito una domanda così poi iniziamo anche a entrare nel vivo della conversazione e vi chiederei quanti di voi si informano anzitutto di clima ma soprattutto quanti lo fanno in modo quotidiano e se avete quindi delle realtà per farlo in modo quotidiano ok giusto un paio di risposte magari prima fila vediamo se ad esempio tu quotidianamente dove dove ti informi non ci sono risposte sbagliate esatto Areale ok così random grazie ok qualcuno che non sia né domani né Areale né Livegate Carbon Brief ok perfetto quotidianamente ok ok quindi IPCC quel mondo ok perfetto direi che più o meno abbiamo raccolto ed è questo proprio lo spunto da cui volevo partire nel senso che io spesso e volentieri poi anche con Ferdinando adesso entreremo nel merito però il tema il problema principale spesso quando si parla di informazione quando si parla di comunicazione per il clima è che spesso e volentieri mancano delle fonti di informazioni che possano ottenere un riflettore fisso su quello che in molti ormai non soltanto lato scientifico ma anche per chi poi sta studiando sta cercando di metabolizzare per usare appunto un verbo che nella newsletter ho scelto dei contenuti che fondamentalmente sono difficili e quotidianamente è difficile trovare delle storie raccontare o immaginare dei modi per cercare di informare in modo costante sul clima e questo è probabilmente un tema spartiacque nel senso che spesso noi ci fermiamo o anzi ci dividiamo tra chi crede che il clima sia il tema fondante del nostro secolo su cui dobbiamo attivarci dobbiamo fare attivismo dobbiamo andare oltre quello che è la classica consapevolezza e chi invece nega questa cosa chi addirittura cerca di andare contro fondamentalmente creando appunto questa fazione quando in realtà ancora prima spesso chi cerca di inquinare il dibattito ciò su cui investe è fondamentalmente ignorare il tema non parlarne non fare in modo che se ne parli in modo costante e soprattutto che sia puntuale attento e condiviso con ferdinando prima di cominciare parlavamo facevamo e poi probabilmente lo riferiamo ancora l'esempio della pandemia che abbiamo vissuto lì se abbiamo se siamo riusciti a superare l'emergenza superare la crisi è perché abbiamo parlato tantissimo di quello che stavamo vivendo di quali fossero le cause e quali fossero le soluzioni oltre che le conseguenze sulla crisi climatica in particolare questa cosa è un po difficile è un po difficile perché lo sentiamo lontano lo sentiamo come un tema che probabilmente non ci riguarda così da vicino se non quando si parla di emergenza e anzi a volte non abbiamo neanche le parole per parlarne una cosa che spesso e volentieri livegate che appunto è un network che fa informazione sulla sostenibilità da più di vent'anni e che ci mancano le parole per descrivere quello che succede intorno a noi no ad esempio sappiamo che quando si verificano eventi estremi come possono essere dei nubi fragili che ci sono stati in Emilia Romagna in Toscana oppure degli incendi che abbiamo visto sparsi in Italia ma anche adesso ad esempio in Grecia sono già tornati spesso si parla di ad esempio in caso di di piogge intense si parla di maltempo però non è possibile descrivere con la parola maltempo sia appunto una pioggia primaverile che sia invece un temporale estivo o addirittura un evento estremo che fa cadere ad esempio su un territorio una quantità d'acqua in poche ore che è paragonabile a quella che su quel territorio dovrebbe cadere in mesi e quindi usare la parola maltempo per tutto spesso non è la soluzione adeguata ed è da qui forse che anche la mancanza di parole no di un glossario condiviso che anche per chi come noi fa informazione ci rende la questione molto più complessa da raccontare quindi non soltanto è difficile farla arrivare ma spesso anche per noi è difficile proprio scegliere e trovare le parole giuste il Guardian ad esempio che è un po' un faro per chi fa informazioni per il clima anche scelto poi nel tempo di investire su determinate espressioni proprio per farle arrivare a volte anche come si diceva condividendo una richiesta un grido di attivisti come ad esempio i ragazzi dei Fridays for Future che hanno chiesto di chiamare le cose con il proprio nome ed è da qui che voglio partire anzitutto grazie Ferdinando per essere qui grazie per aver accettato l'invito e ti faccio una domanda molto precisa concreta che tra l'altro deriva anche da un post che hai fatto su Instagram pochi giorni fa dove chiudevi questo questo copy questo messaggio dicendo che il clima è l'arto fantasma dell'informazione e della politica italiana è una frase che tu hai usato per descrivere un momento preciso anche no della storia della cronaca legata al al clima ci spieghi esattamente cosa intendi perché e soprattutto se anche per te è così difficile parlare di clima ciao ciao grazie Tommaso buonasera a tutte e tutti sì 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 è difficile e quella quell'espressione arto fantasma l'avevo usata per parlare di un caso specifico che però raccontava qualcosa di più grande era la ecco facciamo un altro esperimento quanti sapevano della causa giudizio universale contro lo stato italiano e quindi 35 per cento della sala quindi per tutti gli altri in Italia ci sono due cause climatiche in corso oggi per esempio peraltro ne è arrivata a termine una la trea la corte europea dei diritti dell'uomo ma parliamo di Italia ce ne sono due una di questi due è già arrivata una prima sentenza l'ha portata avanti una organizzazione che si chiama a sud ed è una causa contro lo stato italiano per inadempienza climatica è arrivata una prima sentenza la sentenza è stata negativa per per a sud e positiva per lo stato italiano però il tema qual è il tema è che a sud ha portato avanti questa causa per spingere lo stato italiano a tagliare tantissimo le emissioni credo del 90 per cento fosse la richiesta entro il 2030 e ovviamente non ci sarebbe mai stato il tempo per arrivare a questo risultato perché con i tempi lentissimi della giustizia italiana probabilmente la sentenza sarebbe arrivata arriverà nel 2030 o nel 2029 nel 2028 quindi il vero scopo della causa giudizio universale era che si parlasse di clima era portare il clima nel dibattito pubblico italiano perché fondamentalmente l'Italia lo dicevamo prima è un paese ossessionato dei processi dalle cause la metà dei nostri quotidiani e dei nostri telegiornali sono riempiti di notizie di processi di carte processuali e quindi la strategia era proviamo a entrare nel dibattito da questo lato qui e anche questa sala anche di persone interessate alla questione climatica ci dimostrano che anche da quel da quel punto di vista non è successo e quindi non si è parlato della causa che quindi ha fatto tutto il sulla sua prima fase di svolgimento quindi citazione udienze sentenza senza che nessuno se ne accorgesse e questa è una grandissima sconfitta molto più grande questa sconfitta qui che aver perso in tribunale con la sentenza di primo grado nel mondo ci sono in questo momento duemila contenziosi climatici in corso e quando ce ne sono stati in Francia in Germania erano notizie della prima pagina le sentenze sono state notizie di apertura dei telegiornali in Italia fondamentalmente questa cosa qui è stata invisibile ed è stata invisibile come tutta la politica del clima è invisibile io non io non penso che la crisi climatica sia invisibile nei media italiani ai media italiani a tutti i media piace raccontare solo una parte che la parte giornalisticamente più interessante che è quella degli effetti perché il clima è un problema diviso in tre quindi ci sono le cause ci sono gli effetti e ci sono le soluzioni e giornalisticamente la parte degli effetti quindi delle conseguenze della crisi climatica io trovo che ormai sia ben raccontato io trovo che sia raccontata in modo sostanzialmente accettabile poi si può fare sempre di meglio però quella parte lì non è la parte che io trovo problematica per esempio su un grande quotidiano italiano del quale non farò il nome Repubblica si è parlato molto bene di siccità della siccità in Sicilia in Sicilia c'è una grande crisi di siccità in questo momento e se ne è parlato bene se ne è parlato anche nel contesto dei cambiamenti climatici ma quegli articoli sono completamente inutili se non si parla delle cause dei cambiamenti climatici e quello è il pezzo che manca alla maggior parte dell'informazione italiana e ovviamente ci sono tanti come dire tante cause per la mancanza di cause del discorso sulle cause la prima è quella più evidente quindi la predominanza dell'industria oil and gas nel mercato delle inserzioni per quanto riguarda i telegiornali ma c'è anche una pigrizia mentale per cui il discorso sulle cause rispetto al discorso sugli effetti è un po più pedante e ha proprio a che fare con il ruolo pedagogico che inevitabilmente deve avere l'informazione per cui gli effetti sono sempre diversi gli effetti cambiano e quindi giornalisticamente sono anche una storia più divertente da raccontare anche nella sua tragicità il problema è che le cause sono invece sempre le stesse qualunque sia la manifestazione di cambiamento climatico che noi osserviamo che sia una siccità che sia un'alluvione che sia un'andata di calore le cause sono sempre le stesse sono prevalentemente i sistemi energetici l'uso dei combustibili fossili se vogliamo anche i sistemi alimentari ma sono sempre quelli andrebbero sempre ripetute e ovviamente è anche una cosa un po pedante qualcuno citava il guardian prima nel guardian anche in modo un po pedante ogni volta che c'è un articolo su qualunque manifestazione dei cambiamenti climatici si ricorda che i cambiamenti climatici sono causati dall'uso dei combustibili fossili e questo pezzo qui è quando manca rende munco il dibattito pubblico perché appunto è come parlare di una pandemia senza mai citare il virus poi quando arriva il lockdown le persone dicono ma perché devo fare il lockdown se nessuno mi ha mai parlato di un virus tu però dicevi giustamente non è che non se ne parla se ne parla però solo sulle quando c'è l'emergenza no tu hai citato adesso ad esempio la sicilia che è una questione molto locale una emergenza che probabilmente fa rumore quindi arriva e non se ne parla in termini di cause e soprattutto collegandolo no a qualcosa di più ampio e come dicevamo prima anche usando le parole giuste quindi parlare solo di siccità o magari di scarsità idrica senza capire il perché come si è arrivati lì però forse proprio questo non è che crea un effetto per cui quella notizia non si identifica come una notizia di clima c'è anche ovviamente un rapporto di green peace che evidenzia come effettivamente nelle testate soprattutto cartaceo se ne parla poco e male no e spesso però si crea un'etichetta notizia di clima anche quando poi come dicevi tu non si citano le cause non si citano tutti i motivi per cui si è arrivati a una questione di emergenza quindi la domanda è ma siamo sicuri che fare quel tipo di informazione è fare informazione per il clima non lo so nel senso che il punto è è un'informazione che non solo sia completa quando dai il tuo pezzo di informazione ma che non sia contraddittoria è un po schizofrenica quando passi dalle pagine della cronaca alle pagine dell'economia io prima citavo repubblica perché tu nelle pagine della cronaca magari hai il racconto di un alluvione e poi nelle pagine dell'economia hai un articolo trionfale sul fatto che è stato scoperto un nuovo giacimento di gas da parte dell'eni e sono sullo stesso giornale sono a distanza di dieci pagine e com'è possibile che gli effetti vengono raccontati nella loro tragicità e le cause vengono celebrate è come avere una pagina di un quotidiano che celebra i successi del virus durante la pandemia non lo avresti e perché noi dobbiamo celebrare i successi dell'industria eulingas quando l'industria eulingas ha causato tutto questo e questo è questo tipo di livello di dissociazione cognitiva che secondo me rende così monco e così problematico il dibattito pubblico e secondo me il vero problema è che è proprio l'assenza di questa conversazione pubblica perché qui non nessuno arriva con delle risposte precostituite su cosa si debba fare su che tempi ci devono essere su quanti sacrifici dobbiamo affrontare su quali sono le opportunità il problema è che manca proprio il dibattito è come se questo status quo si presentasse come naturale e si presentasse come una cosa che non può essere nemmeno oggetto di una conversazione politica e questo lo vedi dal fatto che i partiti politici ne parlavamo prima fanno così fatica ad affrontare il tema delle fonti energetiche da un punto di vista del clima proprio perché c'è questo uso un termine inglese brutto però gate keeping e quindi questo creare un cancello intorno all'argomento per cui non si deve proprio entrare non è che si può avere un dibattito aperto in cui si confrontano le varie ragioni ma semplicemente è così e basta e tutti gli altri vengono proprio esclusi dal dibattito pubblico io di recente sono stato in liguria a savone vado ligura dove sarà spostato il rigassificatore con l'artundra da dal porto di piombino e lì c'è una grandissima mobilitazione è una mobilitazione bipartisan è una mobilitazione anche non politica nel senso partitico perché lì sono tutti inorriditi perché lì gli stanno mandando scusate il turpilo qui a puttane 30 anni di modello di sviluppo futuro perché gli stanno mettendo questo mostro di fronte alla costa quando tutto lo sviluppo di quel lato di liguria era appunto culturale si stanno questa buona si sta candidando a capitale italiana della cultura turistico e questo questa protesta al di fuori dei confini di questi tre comuni viene trattata come sì i soliti nimbi che non vogliono un'infrastruttura che è utile al paese senza nemmeno entrare nel merito ed è questo il problema che sulle questioni energetiche non si entra più nel merito viene tutto considerato un grande status quo sul quale non si può avere nemmeno una discussione e non la si può avere perché i luoghi dove dovrebbe partire quella discussione cioè i giornali le televisioni la impediscono perché mostrano solo un pezzo del problema abbiamo abbiamo parlato quindi di cause non soltanto a livello di clima ma anche di cause del motivo per cui non si parla di certe cose però secondo te da parte invece del lettore delle persone lì invece vedi una responsabilità cioè il fatto stesso che spesso e volentieri alcune notizie fondamentalmente finiscono ormai non page soprattutto nelle home page dove la prima pagina si rinnova ogni cinque minuti no e poi qua ci sarà anche un gancio con l'attualità perché appunto sfruttiamo quest'occasione anche per fare un po di informazione vera e propria visto che tra ieri e oggi ci sono state due notizie che fondamentalmente cambiano un po anche la narrazione di chi fa informazione per il clima però quanto invece è una responsabilità di chi queste informazioni anche trovandole o avendole davanti le schippa le scrolla via non le clicca perché poi ovviamente anche per una testata giornalistica e immagino che tu lavorando anche per un quotidiano cartaceo su queste dinamiche hai una prospettiva è un punto d'osservazione però se quella notizia non viene letta non viene cliccata quasi dice vabbè che ne scrivo a fare e l'esempio appunto magari di questi poi entreremo nel merito su cosa è successo oggi però questo è un dato di fatto allora premessa escludiamo da questa risposta i negazionisti militarizzati i fanatici gli psicopatici che si svegliano la mattina devono commentare ogni singolo post con infografiche inventate con le idee sul fatto che noi coloriamo di rosso le mappe per terrorizzare le persone quindi escludiamo queste persone dalla risposta e la risposta è no certo che no certo che non è colpa loro è certo che è una risposta naturale schippare la notizia non non considerarla rilevante perché perché manca un pezzo al dibattito pubblico e quindi in questo momento le persone sono soverchiate da questo da anche qui una dissociazione perché poi le dissociazioni nel modo di fare informazione si traducono in dissociazioni nelle persone nel vivere con l'informazione quindi le persone percepiscono che c'è una crisi climatica che c'è un cambiamento climatico ne sono tendenzialmente molto consapevoli e molto più consapevoli di quanto noi riteniamo che lo siano però sentono anche una voragine fra quel livello di preoccupazione e qualunque cosa possano fare e quindi il mio principale informatore climatico cioè il mio barbiere ha trovato questa formula che mi ha chierito un po' di cosa perché appunto lui aveva visto che ho fatto una diretta quindi abbiamo cominciato a parlare di questo argomento e io ho chiesto cosa ne pensasse e lui mi ha detto no io sono preoccupato per i suoi motivi per cui era preoccupato cioè il suo prato in Brianza è messo malissimo d'estate perché è giusto perché ognuno di noi ha un canale di accesso personale è la cosa che noi singolarmente vediamo che sta cambiando però lui mi ha detto questa frase è illuminante mi ha detto sì io mi preoccupo ma non me ne occupo e quindi mi ha detto io sì io questa cosa la vedo ma io cosa posso fare per questa cosa e ci sono tanti elementi in questa risposta il primo è che manca una visione alternativa manca proprio un nuovo paradigma noi viviamo completamente nel paradigma dello status quo che è in tutti i nostri pensieri in tutte le nostre azioni in tutti i pezzi della conversazione politica e la persona che vuole tradurre quella preoccupazione per il suo prato in un contenuto politico in un'azione politica anche solo in un pensiero politico non sa proprio a cosa aggrappare quel pensiero magari può aggrapparlo alla paura ma la paura politicamente ormai è completamente inutilizzabile perché ha fatto il suo corso e comunque la crisi climatica per quanto faccia paura non ci farà mai abbastanza paura e il secondo tema è che questa è anche una responsabilità dei movimenti secondo me noi siamo partiti dicendo con la strumentalizzazione del livello individuale per cui non vi come dire la carbon footprint l'impronta di carboni era una cosa delle persone quindi la crisi climatica la dovevano risolvere le persone chiaramente era impossibile che la risolvessero le persone quindi il discorso è diventato è tutto sistemico è tutto sistemico dobbiamo solo avere un livello di azione politica sistemica devono cambiare i grandi centri di aggregazione energetica di potere politico di potere finanziario e però tutto questo ha finito con l'entrare nella mente delle persone e farle sentire responsabilizzate se è tutto sistemico allora io non devo fare più niente se è tutto sistemico qualcuno se ne occuperà ve ne occupate e mi dite cosa avete fatto se mi va bene lo accetto se no protesto e ovviamente anche questo è un livello di dissociazione politica che non va più bene e quindi c'è anche molto bisogno della scoperta di un livello individuale perché il livello individuale che è stato molto vessato molto trascurato è un accesso al livello politico è l'inizio del livello politico è il livello politico su una quantità più bassa e quindi anche l'importanza delle azioni individuali secondo me oggi deve essere rivalutata politicamente proprio perché altrimenti l'alternativa è avere persone che si preoccupano ma non se ne occupano ed è qualcosa che non ci possiamo permettere su questo tra l'altro un parere poi personale che ho anche cercato di scrivere in uno dei vari episodi del clima italiano era quello che spesso e volentieri l'informazione da sola non basta bisogna anche emozionarle le persone infatti ti chiedevo prima perché secondo me anche la difficoltà a volte di trovare delle storie per cercare di creare empatia di creare quell'emozione che non sia fine a se stessa ma che sia appunto collegato poi anche con un'esperienza con un vissuto e una delle ipotesi anche che poi abbiamo discusso non soltanto tra noi ma anche in passato proprio con altri giornalisti è che noi da soli non bastiamo non riusciamo a dell'impresa e serve anche tutto il mondo invece dell'arte cioè spesso e volentieri tutto il mondo dell'arte ha fatto sì che qualche cosa di contemporaneo e anche di rivoluzionario che avvenisse in un determinato tempo e territorio in qualche modo contribuisse a accendere le coscienze ma soprattutto poi a accendere i movimenti a fare sì che ci fossero delle reazioni io non so poi anche se tra voi questa cosa esiste però spesso e volentieri noi conosciamo più i libri o i film non so se ad esempio vi cito il libro La grande cecità di Amitav Ghosh oppure il film Siccità di Paolo Virzi quanti voi hanno visto o letto questi libri o anche il tuo libro che sicuramente è arrivato laddove magari i tuoi articoli non potevano non sono arrivati e quindi secondo te anche se tu lo ritieni ovviamente un tema sensato in quest'ottica però quanto l'arte può contribuire a far arrivare l'informazione e quindi anche la lotta contro la crisi climatica laddove la nostra informazione da sola non può arrivare o non riesce ad arrivare ma anche dove non deve arrivare perché poi c'è anche una divisione dei compiti, dei ruoli, dei linguaggi per cui sicuramente le narrazioni, l'arte, il cinema, la musica sono fondamentali e io vedo che tra l'altro ho citato solo esempi italiani ma ovviamente sappiamo tutti di Don't Look Up quanto ha creato un hype su Netflix oppure di quanto si parla anche di Billie Eilish che è un'artista, una cantautrice americana molto giovane ma che ha fatto poi della crisi climatica anche una sua missione in senso artistico quindi paradossalmente sì in Italia ci sono degli esempi ma nel mondo forse anche di più infatti esempi ce ne sono secondo me il punto è sempre che esempi cosa ci raccontano tu citavi Siccità che forse è il primo grande film italiano mainstream di un autore riconosciuto come Virzi molto stimato molto al centro del cinema italiano che prova ad affrontare i cambiamenti climatici a me non è piaciuto per niente e lì ci ho trovato però un grande limite generale a noi piacciono tantissimo cinematograficamente le distopie quindi i racconti distopici su come il mondo potrebbe andare a scatafascio con la crisi climatica secondo me quei racconti non aggiungono tanto e non sono nemmeno particolarmente utili ma in qualche modo tutte le narrazioni stanno andando lì quindi c'è sempre la ricerca di una distopia sempre più grande su una scala sempre più spaventosa oppure sempre più sottile sempre più disturbante secondo me la distopia ha un doppio problema uno tende a farti ritrarre perché la distopia è molto scoraggiante secondo me la distopia non è un grande contenuto politico e due la distopia può anche farci sentire delusi dalla crisi climatica perché uno dei grandi problemi appunto della paura della crisi climatica è che non ci farà mai abbastanza paura e se noi alziamo sempre di più la sticella della paura la sticella della distruzione la sticella della devastazione alla fine ci troveremo con la nostra normale crisi climatica che è gravissima ma che ci sembra anche un po' deludente rispetto a quello che ci avevano promesso i film se i film ci promettono una grande palla di fuoco che ci distruggerà e poi alla fine abbiamo soltanto 40 giorni di fila sopra i 40 gradi e vabbè era questa l'apocalisse che ci avevate promesso ma è noiosissima perché dovremmo attivarci per una cosa così noiosa e quindi secondo me le narrazioni devono entrare in campo ma devono fare un discorso un po' più articolato sulla nostra fatica col presente più che questa anticipazione di catastrofi future e questo secondo me ci porta anche a un altro discorso che è collegato anche all'attualità che il nostro bisogno sempre di avere un nuovo record e se non c'è un nuovo record non ci riusciamo più a interessare alla crisi climatica e quindi la notizia di oggi è che l'osservatorio Copernicus ha misurato che anche marzo è stato il marzo più caldo mai affrontato dalla civiltà umana come la conosciamo se vogliamo mettere l'immagine 1 che l'avevamo giusto preparata anche per capire di cosa stiamo parlando ed è il decimo mese consecutivo noi siamo su quella lineetta gialla che è un punto molto brutto sul quale essere quindi decimo mese da record consecutivo da un lato è diventato un rumore di fondo per cui quando smetterà di essere interessante questa sequenza di record forse già con marzo ha smesso perché diventa come la zona di interesse quindi tu senti il rumore di questo disastro che sta avvenendo oltre il tuo muro ma a un certo punto impari a cancellare quel rumore ma soprattutto la ricerca di sempre un nuovo record sempre un'ondata di calore più forte sempre una temperatura più alta mi ricordo qualche settimana fa c'era stato il caso delle notizie sparate sul fatto che in Brasile c'erano 54 gradi poi era la temperatura percepita che è un indice di rapporto del nostro corpo con l'umidità e il calore peraltro appunto se in Brasile ci fossero 57 gradi veramente dovevamo cominciare a preparare le astronavi per evacuare la Terra però secondo me ci dice qualcosa sul fatto che alzare sempre costantemente e questa è una colpa anche di noi giornalisti alzare costantemente l'asticella dell'ansia quindi cercare sempre un livello più estremo del racconto errore secondo me sia delle narrazioni che dell'informazione poi ti scarica quando tu devi affrontare la realtà che è una realtà molto più quotidiana questa è una crisi che è fatta per rimanere che è fatta per essere tutto il resto della nostra vita che è il nostro presente e il nostro futuro e quindi noi e questo cielo devono insegnare tantissimo le narrazioni l'arte e la musica dobbiamo imparare a convivere con la quotidianità della crisi climatica e non solo con la sua eccezionalità e chiudo da settimane forse mesi in Italia si parla pochissimo di clima per una bellissima notizia non è successo niente non è successo niente non c'è stato nessun evento estremo non c'è stata nessuna alluvione non c'è stato niente che ha superato il radar non c'è stato niente che ci ha portato sulla linea gialla perché noi sappiamo raccontare del clima solo quando siamo sulla linea gialla e quindi abbiamo avuto due mesi in cui grazie a Dio non è morto nessuno o comunque non è successo niente di giornalisticamente così rilevante da farci sentire lì e ci siamo dimenticati che ci sono i cambiamenti climatici però purtroppo quella cosa risuccederà quella cosa risuccederà e noi non possiamo parlarne solo quando succede non possiamo educare noi stessi come giornalisti e il pubblico a essere sempre lassù noi dobbiamo vivere la quotidianità della crisi climatica perché la crisi climatica la possiamo affrontare soltanto nella sua ripetitiva, noiosa quotidianità altrimenti non la potremo mai affrontare soprattutto probabilmente è proprio lì che possiamo fare quella diciamo aspetto pedagogico divulgativo dove aiutiamo a capire poi anche quello che sarà il prossimo record infatti su Livegate in particolare quello che noi facciamo è poi queste storie questi racconti queste notizie non è che le andiamo a trovare ma spesso e volentieri durante tutto l'anno si cerca proprio di approfondire qualche cosa che spesso e volentieri l'attualità ti impedisce di portare avanti a volte ti sovverte il piano editoriale perché l'attualità è sempre quella che in qualche modo apre il giornale, apre il sito quando in realtà le riflessioni che andrebbero fatte tutto l'anno e questo appuntamento e poi il ciclo di incontri peraltro che abbiamo fatto non l'abbiamo fatto neanche così a caso in questo periodo perché come appunto da sinossi di questo intervento è proprio un punto mediano una media che c'è tra l'ultima conferenza sul clima che si tiene ogni anno a dicembre quindi la COP28 in particolare la prossima sarà a fine novembre a Baku e le elezioni europee ed è adesso che noi possiamo capire soprattutto che tipo di sfida abbiamo davanti qual è la portata di questa sfida e anche arrivare più consapevoli poi al voto e tra l'altro una delle notizie uno dei sondaggi che è stato fatto di recente da Euronews insieme a Ipsos è che in teoria come dicevi tu a me interessa come cittadino europeo la crisi climatica sono uno che in teoria voterebbe o comunque andrei a votare per un partito che si occupa di clima addirittura il 64% aveva questo tipo di approccio se non addirittura l'80% che lo considerava quanto meno importante ma poi se si andava a vedere effettivamente a contare chi di clima parla non arriva neanche al 10% anche a livello europeo e questo è proprio perché c'è uno stacco tra il percepito cioè il dire ok si è un tema che mi preoccupa e poi comprendere come dicevi tu come trasformarlo in qualche cosa di duraturo e che non riguardi soltanto il giardino sotto casa o il rigassificatore davanti alla propria finestra è qualcosa che dobbiamo portare avanti tutto l'anno ed è questa forse la vera sfida questo grafico però in realtà ci dice qualcosa di più nel senso che paradossalmente appunto oggi sono successe due fatti molto importanti uno è proprio questo nel senso che è il decimo mese consecutivo che il mese che stiamo che abbiamo vissuto è stato il mese più caldo quindi c'è stato il febbraio più caldo rispetto a tutti i febbraio che abbiamo mai registrato il gennaio eccetera questo è stato il mese di marzo più caldo in assoluto e che ha ovviamente come si può vedere battuto il mese di marzo del 2023 il 2023 rappresenta l'anno più caldo che abbiamo mai vissuto come potete vedere in particolare il 2023 ha subito un'impennata soprattutto nella seconda metà dell'anno perché è lì che poi a un certo punto è partito anche come sappiamo il fenomeno del nigno che è questo fenomeno che si verifica ogni 5-7 anni e che in qualche modo contribuisce all'aumento delle temperature in modo naturale combinato a il riscaldamento globale ha creato quella curva che voi vedete a un certo punto partire da maggio 2023 la linea rossa in poi a qualche cosa che non abbiamo mai visto prima se andate a vedere tutte le linee sotto che già ovviamente ci raccontano di una crisi climatica in atto che esiste se voi vedete quel gap che c'è tra l'ultima linea pallida rossa e poi invece la linea rossa del 2023 è enorme c'è un gap nero che ti fa capire che nessun anno è stato in quel mezzo e noi adesso abbiamo iniziato marzo cioè il 2024 vedete il giallo com'è rispetto anche soltanto al 2023 la speranza ovviamente è che quella curva a un certo punto di nuovo verso maggio probabilmente inizierà a calare perché il nigno come fenomeno appunto meteorologico oceanico climatico ancora prima che è meteorologico calerà subirà un'inversione di tendenza e probabilmente speriamo da maggio in poi in qualche modo quella linea gialla subirà un calo però capite bene che stiamo parlando di qualche cosa che non è statisticamente comprensibile cioè chi fa queste misurazioni da decenni e poi tra l'altro il prossimo appuntamento lo vedremo perché ci sarà Carlo Buontempo che è il direttore proprio della agenzia Copernicus che si occupa in particolare dei cambiamenti climatici e chiederemo poi a lui anche Contezza di quanto sta accadendo però proprio oggi neanche a farla apposta una sua dichiarazione che vi rileggo perché ovviamente fa la differenza sentirla dire da lui che peraltro avremo testimone qui tra due settimane quindi il 23 aprile dice esattamente questo che vi leggo siamo ormai lontani dal clima nel quale la nostra civiltà si è sviluppata una sentenza che fondamentalmente detta da lui ci fa capire che tutto quello anche che stiamo dicendo io e te siamo veramente quella famosa rana immersa in quella boccia di acqua che piano piano si sta scaldando e che non ci fa capire che cosa stiamo vivendo e per questo è che poi almeno dal mio punto di vista l'arte potrebbe veramente un po' scardinare questa questa apitudine che ci stiamo che stiamo avendo rispetto al riscaldamento globale rispetto a quella rana che si sta scaldando piano piano ed è per questo che dobbiamo in qualche modo attivare non tanto per forza le emozioni peggiori cioè quelle che ci creano appunto ansia stress timore ma anche quelle positive quelle che ci fanno capire che in qualche modo questo clima che ha permesso di sviluppare la nostra civiltà in qualche modo ce lo vogliamo tenere stretto Mancuso Stefano Mancuso che è un neurobiologo vegetale che sapete ha scritto diversi libri anche legati alle piante ha fatto un po' un mantra l'affermazione che dice che fondamentalmente noi vorremmo vivere il più a lungo possibile e quindi se vogliamo dimostrare di essere una specie intelligente come diciamo di essere dobbiamo cercare di portare far sì che la nostra specie possa vivere più a lungo possibile come hanno fatto altre specie prima di noi o concomitanti a noi come sono le piante gli alberi che sono su questa terra da 2, 3, 4 milioni di anni e probabilmente ci saranno per altri tanti milioni e l'unica cosa che hanno fatto hanno usato un'intelligenza che è quella di far rete quando c'è un pericolo non cercare di salvare se stessi nella speranza di salire sull'astronave sulla nave prima degli altri e poi chi se ne frega degli altri ma cercare di capire qual è l'anello debole di questa catena qual è l'anello debole di questa rete per cercare di rafforzarlo e non di chi se ne frega io mi metto in salvo e voi siete voi e questa cosa tra l'altro è terribile l'immaginare che paradossalmente oggi le persone più disposte a fare dei cambiamenti nel loro stile di vita ma anche tra virgolette a tassarsi oggi vedevo un reel su Instagram che diceva come alla domanda quanti di voi sarebbero disposti a dare l'1% del vostro reddito per la crisi climatica chi è più favorevole a farlo sono i paesi più vulnerabili i cittadini dei paesi più vulnerabili che sono quelli che in realtà dovrebbero essere aiutati perché non soltanto a livello economico ma perché sono meno responsabili della crisi climatica eppure è esattamente il contrario cioè l'anello più debole in termini di specie umana è quella che è anche più disposta a sacrificarsi per cambiare e per sopravvivere e per far sopravvivere gli altri quindi questa è la prima notizia che è successa oggi se vuoi Ferdinando magari diciamo anche la seconda che in qualche modo si rega anche al tema che dicevamo delle sentenze delle cause di giudizio universale che poi appunto ci ha dato modo di partire e che invece si è svolta a Strasburgo Sì, oggi arrivavano a sentenza tre casi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e il caso di sei ragazzini portoghesi terrorizzati dagli incendi del 2017 in Portogallo che avevano fatto più di cento vittime e avevano fatto causa per inadempienza climatica a 32 paesi il caso dell'ex sindaco di un comune in Francia che ha fatto causa per l'inalzamento del livello del mare per l'inadempienza al suo paese alla Francia e il caso di 2500 anziane signore svizzere che avevano fatto causa alla Svizzera sempre per inadempienza climatica il presupposto di queste tre cause era che la non azione per il clima era una violazione dei diritti umani ed erano molto attese queste sentenze e sono andate in modi diversi per cui l'unica sentenza che è stata riconosciuta a favore di chi ha fatto causa è stata quella delle vecchiette quindi hanno perso i ragazzini portoghesi hanno perso l'ex sindaco francese hanno vinto le signore e hanno fatto la storia hanno fatto la storia perché la prima volta che un paese viene condannato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per una violazione dei diritti umani legata all'inazione per il clima e i portavoce del gruppo Duarte quindi i ragazzi portoghesi hanno detto nella delusione la vostra vittoria hanno detto le signore è comunque la nostra vittoria e io ci trovo al di là poi dell'analisi tecnica ci vorrà molto tempo per fare un'analisi tecnica giuridica di perché una causa è andata bene due cause sono andate male una è andata bene però io vorrei qui portare con voi il significato politico e io trovo bellissimo che abbia vinto la causa delle signore anziane trovo che abbia un significato politico gigantesco perché ci porta in uno dei punti di approdo dell'azione per il clima che deve smettere di essere un problema generazionale deve smettere di essere soltanto la storia dei ragazzini deve diventare la storia di tutte quante le generazioni e quindi che queste signore abbiano impegnato tanto del proprio tempo tanto delle proprie risorse per portare avanti un contenzioso che è andato avanti per anni perché loro l'hanno portato in tutti i gradi di giudizio in Svizzera e poi sono arrivati alla Corte Europea dei diritti dell'uomo quindi ne hanno fatto davvero la missione della propria vita e ne hanno fatto la missione della propria vita per un futuro che probabilmente non vedranno che sicuramente non vedranno ed è un atto appunto è un atto da piante che fanno rete da piante che fanno rete ragionano come specie quelle signore svizzere hanno ragionato come specie umana hanno ragionato con la propria essenza biologica non hanno pensato soltanto ai propri nipoti io ho intervistato una di loro e mi aspettavo che mi parlasse dei figli dei nipoti e mi ha colpito che non aveva figlio nipoti e mi è stupito questa cosa per cui era davvero una forma di generosità politica che ho trovato molto bella e molto scalabile se noi davvero riuscissimo a trasformare quella generosità politica in azione davvero saremmo oltre tutti questi discorsi e saremmo già in un mondo nuovo e saremmo già in un paradigma nuovo secondo me questa storia alla fine è una storia di sentimenti un po' contrastanti perché appunto due cause tra cui quella più famosa quella dei ragazzini portoghesi sono andate male però in questa vittoria delle signore svizzere ci vedo davvero una bellissima notizia una bellissima prospettiva per il futuro e anche l'idea che noi siamo abituati a percepire la radicalità in modo sbagliato noi abbiamo bisogno di tantissima radicalità per affrontare tutto questo per toglierci dalla linea gialla dobbiamo davvero avere un pensiero estremamente radicale e noi siamo stati educati a pensare che il pensiero radicale sia un pensiero distruttivo sia un pensiero che distrugge la società sia un pensiero da margini della società e invece che quest'anno nel 2024 che è un anno che non invoglia un grandissimo ottimismo l'azione più radicale per il clima quella più impattante l'abbiano fatta delle sciure svizzere e che la sciura svizzera in questo momento sia la figura radicale per eccellenza in Europa quella che ha davvero cambiato l'Europa io la trovo una cosa bellissima la trovo davvero una cosa che mi dà grandissima speranza per tutti i discorsi che stiamo facendo tra l'altro appunto di queste tre cause appunto ne ha vinta tra virgolette ne è stata portata a termine solo una le altre due peraltro come dicevi poi ci sarà da capire bene però le motivazioni che hanno portato tra virgolette una sconfitta dei ragazzi portoghesi o del sindaco non era di merito non è che quel comune costiero della Francia non fosse effettivamente minacciato dall'innalzamento del livello dei mari e quindi dalle alluvioni e quant'altro no in particolare la motivazione è stata che quel sindaco non soltanto non è più sindaco non vive più in quella città e anzi non vive più nemmeno in Francia perché in questo momento è parlamentare europeo e quindi vive altrove e quindi non era più legalmente diciamo così rilevante per il caso o in oggetto l'altra invece è quella dei ragazzi che poi anche lì c'è da capire le motivazioni perché io non credo che lo studio legale che sostenesse i ragazzi fosse diciamo così amatoriale o quant'altro ma anzi al contrario però il fatto è che loro non avessero seguito tutti gli iter di giudizio interni al portogallo invece si sa che per arrivare alla corte europea dei diritti dell'uomo bisogna prima passare tutti i gradi di giudizio nazionali e questo non è stato fatto dai ragazzi però era anche un modo probabilmente ma qui stiamo ovviamente andando nelle relazioni per far capire quanto poi quel tema sia non conosce confini gli incendi che ci sono stati in portogallo e che hanno distrutto ettari di terreno di bosco ucciso centinaia di persone non è stato causato dalle emissioni dei portoghesi e questo deve essere chiaro e deve essere uno dei dei capisaldi dei baluardi su cui bisogna lottare oltre al tema carbone petrolio e gas è che tutti siamo responsabili e molto spesso le conseguenze peggiori che si verificano in un determinato territorio ad esempio nei paesi del sud del mondo non sono in alcun modo causate dallo stile di vita di quegli stessi cittadini da quegli stessi abitanti e da quegli stessi esseri umani ed è questo forse che simbolicamente i ragazzi portoghesi volevano anche dimostrare portare avanti perché avevano fatto causa non a uno non a due ma a 32 paesi che avevano in qualche modo aderito all'accordo di Parigi e quindi si erano in qualche modo spesi avevano promesso che avrebbero fatto qualcosa per contrastare il riscaldamento globale quindi per tagliare le emissioni di CO2 che sono causate da carbone petrolio e gas e questo non è stato fatto parliamo di burocrazia parliamo di speed no non ancora probabilmente ci arriveremo per entrare in una cop probabilmente ci chiederanno prima o poi lo speed quasi ci siamo arrivati però perché parliamo di burocrazia perché abbiamo visto che queste due cause si sono fermate si sono arrestate si sono bloccate non tanto per motivi di merito e anzi l'unica che tra virgolette ha vinto ha colto nel merito la sostanza dell'azione legale ma per motivi altri che nulla hanno a che fare col tema climatico e le cop spesso e volentieri vengono tacciate anche di questo quindi io anzitutto ti chiedo che cos'è per te una cop visto che da qualche anno anche tu ormai sei testimone oculare di quello che avviene dentro con i padiglioni e quindi si ci puoi anche dare un piccolo dipinto no un piccolo quadro di quello che oggi ad oggi è una cop prima anche lì parlando un po' dietro le quinte l'hai descritto molto bene soprattutto l'ultima e poi capiamo perché ma effettivamente queste cop devono andare oltre a quello che sono oggi però iniziamo per gradi e che cos'è per te oggi una cop che l'hai vista che la vivi insieme a me insieme ad altri colleghi che ormai appunto ci conosciamo nostro malgrado a volte perché quando sei nelle cop non vorresti vedere nessuno e vorresti solo sparire però che cos'è oggi una cop per chi fa informazione che cosa è per me oggi una cop le uniche due settimane all'anno in cui vengo cagato scusate ancora di nuovo il turpilocchio le uniche due settimane all'anno in cui quello che noi facciamo non è completamente a margini dell'informazione ma è al centro dell'informazione o almeno dovrebbe essere al centro dell'informazione e comunque c'è più attenzione quindi le cop sono il culmine dell'anno il culmine dell'annata della politica del clima della diplomazia del clima e sono anche le due settimane in cui mi trovo più spesso a difendere le cop cosa che io faccio mio malgrado perché non ritengo che il ruolo del giornalista che segue le cop debba essere di difendere le cop però io trovo anche molto sbagliato il discorso di buttare a mare questo strumento perché è uno strumento che sta diventando molto problematico molto deludente le cop tendono a deluderci e noi stiamo andando verso la 29esima quindi la 29esima conferenza delle parti dell'ONU per risolvere il problema dei cambiamenti climatici sarà la terza consecutiva sarà a Baku in Azerbaijan sarà la terza consecutiva in un paese produttore di combustibili fossili sarà la terza consecutiva in un paese con un grande consolidato problema di diritti umani diritti civili diritti politici e quindi abbiamo un problema abbiamo proprio un problema di credibilità e quindi il primo problema di credibilità della cop 29 di Baku è Baku il secondo problema di credibilità della cop 29 di Baku è 29 cioè il fatto che questo numero continua a crescere continua a essere anche lì una linea gialla che continua a salire e a fronte dell'enorme sforzo diplomatico politico che viene portato avanti i risultati sono pochi non sono zero ma sono comunque pochi anche perché noi lo vediamo la crisi climatica sta accelerando e questo i dati di Copernicus lo mostrano ma le cop non stanno accelerando e quindi le cop sono un problema ma le cop sono anche un patrimonio sono anche un patrimonio che noi dobbiamo proteggere sono un patrimonio che dobbiamo difendere perché ormai lo diciamo sempre più spesso ed è diventata probabilmente una formuletta però rimane vera le cop sono l'unico spazio che abbiamo a livello internazionale affinché la società civile i paesi più vulnerabili possano far sentire la propria voce perché noi ci lamentiamo spesso di 2000 lobbisti dell'industria oil and gas che vanno alle cop ok togliamo le cop ma rimangono i 2000 lobbisti dell'industria oil and gas quindi il problema è che quello è che quello l'unico spazio in cui trovano un contraltare trovano i rappresentanti dei paesi più vulnerabili che a differenza di quello che facciamo noi gli dicono voi ci state ammazzando e usano proprio ormai questo lessico ci state state trasformando l'oceano nella nostra tomba questo è il lessico che usano uomini e donne politici e politiche ministri capi di stato e di governo alle cop ed è l'unico spazio dove oggi in politica si può usare questo livello di realtà quindi quello che io penso è che le cop sono un problema le cop sono un patrimonio sono un patrimonio da difendere chiunque faccia politica per il clima chiunque faccia attivismo secondo me deve adottare questo strumento come ogni altro strumento multilaterale e dire questo è uno spazio che è nostro questo è uno spazio che va difeso che va migliorato che va innovato poi magari ne parliamo hanno un enorme bisogno di innovazione ma io sono estremamente contrario a ogni discorso di boicottaggio delle cop perché probabilmente la singola persona che più si auspica un boicottaggio della cop è l'amministratore delegato di Exxon perché all'amministratore delegato di Exxon che è una cop venga boicottata che poi fallisca e che poi magari spariscono che non si faccia la trentunesima la trentaduesima sarebbe assolutamente entusiasta il consiglio di amministrazione di Chevron voterebbe assolutamente a favore dell'abolizione delle cop questo lo possiamo dare per certo e anche solo per questo le dobbiamo assolutamente proteggere stimolando il dibattito in ogni sede possibile a ogni livello possibile su un loro miglioramento tra l'altro appunto il tema è che spesso e volentieri delle cop si parla senza sfumature c'è chi sia dal punto di vista dei produttori di carbone petrolio e gas vorrebbero l'estinzione delle conferenze però sempre di più anche invece da chi è avanguardista nell'attivismo per il clima che dice non servono a niente e vengono a loro volta boicottate quindi come se appunto le cop fossero in modo tranchant da escludere dal dibattito oppure dall'altra parte chi dice non c'è alternativa alle cop che anche lì non c'è alternativa significa che quasi come un sovrata di ricatto o questo o niente cioè come dicevi tu o questo o rimangono i 2000 lobbisti però la sfumatura in questo caso anche se parliamo di crisi climatica anche se abbiamo visto i grafici salire all'impazzata in qualche modo la sfumatura deve esserci deve essere mantenuta perché sempre appunto in una riflessione che facevamo con Ferdinando paradossalmente uno dei problemi delle cop oggi almeno a mio parere è la loro perfezione cioè il loro essere troppo democratiche troppo inclusive chiunque può ospitare una cop il motivo per cui per tre volte consecutive un paese che fondamentalmente basa la propria economia sul petrolio sul carbone sul gas ha potuto ospitarla è perché è così che è previsto è così che fondamentalmente funziona il giro quindi ci sono delle aree geografiche delle regioni che a turno candidano un paese e quelle regioni poi quando candidano quel paese tendenzialmente quello viene preso perché le Nazioni Unite funzionano così è l'unico luogo dove effettivamente tutti i paesi contano sia i più piccoli che i più grandi e anche lì la perfezione nel senso dei paesi più piccoli è stato l'isola come Tuvalu come le isole Marshall eccetera eccetera non potrebbero dire quello che dicono se non ci fossero le cop ma soprattutto non ci sarebbe nessuno ad ascoltarle o a riverberare il messaggio se non ci fossero le cop e quindi i due aspetti della metaglia dell'inclusività delle cop delle Nazioni Unite e poi fondamentalmente il fatto che si vuole approvare tutto tramite consenso che anche qui è il bene e il male delle cop anche lì adesso possiamo magari parlarne nel senso che ci vuole una riforma delle cop però capire da dove partire perché ad oggi le cop vengono le dichiarazioni agli accordi i documenti delle cop vengono approvati non so se l'avete visto il video di come quest'anno è stata approvata la dichiarazione diciamo di Dubai fondamentalmente il presidente di turno che in quest'anno era Al Jabr che appunto era questo presidente alquanto discusso e discutibile perché aveva diversi cappelli era inviato speciale del clima quindi governativo degli Emirati Arabi è anche a capo della più grande compagnia petrolifera del paese ma è anche a capo tra l'altro della più grande diciamo così società di rinnovabili del paese quindi ce le aveva tutte e lui è arrivato ha fondamentalmente letto una dicitura un codice che racchiudeva centinaia di pagine di documento che si stava per approvare ha lasciato spazio a pochissimi secondi per vedere se qualcuno in sala poteva o voleva dire qualcosa e poi ha battuto sul martelletto approvando per consenso quello che è il documento più importante sul clima dopo l'accordo di Parigi perché contiene un'espressione come transitioning away che poi magari se qualcuno interessa andremo anche ad approfondire però per consenso è stata approvata l'anno scorso anzi l'anno scorso a Glasgow quindi stiamo parlando ormai di due anni fa questa cosa non è avvenuta perché si è tentato di fare una cosa simile anche a Glasgow ma in quel caso fu l'India che quando si chiese vogliamo approvarlo parlate ora o tacete per sempre l'India ha detto qualcosa ha detto io non voglio che il carbone venga in qualche modo portato a eliminazione possiamo ridurlo ma non possiamo eliminarlo ecco l'India che sicuramente è un paese che è importante che ha un suo peso specifico di tutto rispetto però ha deciso per tutti gli altri 196 stati e ha fatto sì che quell'accordo venisse in qualche modo diluito annappuato cosa che non è avvenuta o meglio è avvenuta dietro le quinte a Dubai perché Al-Jabr non ha voluto rimetterci la faccia come invece fece il presidente della COP di Glasgow ed è stata approvata per consenso questa espressione transitioning away che vuol dire transizione dai combustibili fossili verso ovviamente uno immagina una società un'economia rinnovabile però l'espressione che c'era prima e che è stata eliminata dietro le quinte era face down quindi fondamentalmente una eliminazione graduale dei combustibili fossili e non una transizione da sembra poco ma veramente in quei giorni il dibattito fu acceso si addirittura qualcuno paventava la coppia lunga di sempre qualche cosa che probabilmente non avrebbe portato a termine nel senso che non si sarebbe potuto raggiungere nessun accordo per fortuna l'accordo c'è stato però il consenso e tutte queste dinamiche di quasi appunto eccesso di perfezione quindi il fatto che l'eccesso di perfezione possa essere il problema delle copp in qualche modo va affrontato altrimenti non si riesce a rispondere alla richiesta di velocità rapidità e anche drasticità tu parlavi di radicalità ecco l'azione per il clima oggi deve essere veloce e radicale secondo te nero bianco copp sì copp no c'è una via di mezzo sempre da testimone da chi fa racconto quello che succede che può essere intrapresa facciamo il progetto di riforma delle copp climateriano areale poi lo presentiamo alle Nazioni Unite e allora io non sono un grande fan dell'idea di cambiare il meccanismo di voto nel senso che il consenso questo meccanismo che descrivevi che di fatto funziona come unanimità è un problema però è anche la forza delle copp la forza del messaggio di quel transitioning away è che dietro ci sono tutti i paesi della comunità umana noi potremmo avere un meccanismo di voto con una super maggioranza è la proposta per esempio di Al Gore togliere questa unanimità e decidere che l'accordo finale della copp viene votato a una super maggioranza del 75% dei paesi e in quel caso avremmo avuto il phase out ma sarebbe stato molto più debole quindi avremmo avuto un messaggio più forte ma politicamente più debole ora abbiamo un messaggio meno forte transitioning away ma dietro quel transitioning away c'è un impegno preso davvero da tutti e dato che le copp non producono leggi non è che il testo finale della copp con transitioning away è una legge che noi dobbiamo applicare producono segnali politici è come se fosse una ricetrasmittente che viene mandata in tutto il mondo a tutti i governi sulle scrivanie di tutti i sindaci sulle scrivanie di tutti gli amministratori delegati di ogni tipo di settore sugli investimenti che dovranno fare in futuro e quel messaggio gli dice stiamo facendo il transitioning away dai combustibili fossili di tutta l'umanità se noi mandassimo un messaggio più bello più simile a quello che noi vorremmo ma con meno paesi dietro quel messaggio sarebbe meno forte e quindi sarebbe molto più facile da ignorare e quindi probabilmente almeno io penso che nella riforma reale climateriana io lo terrei per ora il consenso però cambierei altre cose secondo me la prima cosa che va cambiata ed è veramente urgente sono i parametri con i quali vengono scelti i paesi a cui si affidano le copp l'inclusività è importante la rotazione è importante però questo è il negoziato più importante delle Nazioni Unite sia per l'importanza del negoziato sia perché l'azione sul clima è l'ultimo spazio rimasto dove il multilateralismo l'utopia sulla quale sono fondate le Nazioni Unite è ancora viva la tragedia il genocidio a Gaza ce lo dimostra quanto altrove decida semplicemente il più forte il clima invece è rimasto uno spazio dove c'è il multilateralismo è almeno ancora possibile quindi le Nazioni Unite nelle copp hanno il negoziato più importante per l'umanità e hanno il negoziato più importante per il futuro delle Nazioni Unite dato che è così importante quando lo affidano un paese qualunque paese l'Egitto gli Emirati Arabi l'Azerba i John Mordor devono dire a Mordor noi te le affidiamo la copp possiamo fare la copp 33 a Mordor ma ci sono dei parametri ci sono dei parametri questi parametri devono essere rispettati dei parametri minimi però dei parametri di fungibilità politica e di decenza che sotto i quali non si può scendere per esempio la commissione la commissione di lavoro della copp 29 in Azerbaijan nella formulazione iniziale era fatta di soli uomini quella era una cosa sotto il parametro della decenza e poi è stata cambiata quella commissione perché c'è stata un'enorme rivolta diciamo dal punto di vista dell'opinione pubblica globale dimostrazione che esiste un'opinione pubblica globale e alla fine in quella commissione sono entrate anche delle donne in Azerbaijan però non deve essere una cosa volontaristica che una copp non si faccia solo con i maschi deve essere una cosa che è un parametro dovrebbe essere uno dei parametri che l'ONU che è l'agenzia ONU sui cambiamenti climatici quando affida una copp a un paese gli dice però queste sono le regole queste sono le regole di protezione di chi fa attivismo di protezione della sicurezza fisica e politica della società civile della rappresentatività degli organismi di comando della copp dell'indipendenza rispetto alle industrie energetiche altrimenti la copp piano piano sarà un'emorragia di credibilità e alla fine moriranno di inedia e poi l'altra cosa sulle quali secondo me bisogna intervenire è il rumore le copp sono eventi incredibilmente rumorosi l'ultima copp aveva centomila delegati centomila delegati è una città non si può fare questo negoziato così importante in due sole settimane se intorno c'è questo circo perché quella roba lì è prevalentemente un circo e secondo me a un certo punto bisognerà asciugare molto l'evento quindi chi viene per negoziare chi viene per fare politica chi viene dal mondo della scienza chi viene a fare informazione se tu devi presentare la tua app te la presenti da un'altra parte se tu devi venire a fare pubbliche relazioni fai pubbliche relazioni da un'altra parte non possiamo essere in centomila a fare questa cosa le copp devono tornare a essere quello che sono nate per essere un evento scientifico e un evento politico un evento per collegare la scienza e la politica quindi tutto quello che c'è intorno che semplicemente rende non funzionali le copp e quindi le rende molto più deboli deve a un certo punto essere eliminato io quando il terzo giorno di copp 28 questa cosa ha degli effetti molto pratici il terzo giorno di copp 28 era in fila uno degli effetti molto pratici di questa cosa è che se tu non sei un capo di governo o il direttore di Lifegate probabilmente devi fare una fila lunghissima per entrare una fila lunghissima e io il terzo giorno che a volte durava due ore mi sono accorto che dietro di me in fila c'era Carlos Nobre che è il più importante climatologo brasiliano l'uomo che ha scoperto che l'Amazzonia è sul punto di non ritorno quindi dentro la valigetta di questo scienziato c'erano forse i dati più importanti di tutta la copp e lui stava lì due ore sotto il sole con tutti gli altri ad aspettare a fare la fila per aspettare di entrare e quindi perdeva due ore di lavoro nelle uniche due settimane all'anno in cui davvero i dati sull'Amazzonia possono incontrare la politica e portare a decisioni politiche questa cosa non va bene e quindi sicuramente la governance delle copp deve occuparsi di renderle più piccole viene solo chi viene per fare politica o per fare informazione su chi fa politica e tutti gli altri la parte fiera si cercherà un altro spazio per svolgersi secondo me e tra l'altro anzitutto grazie mille quindi direi che non so se è chiaro ti facciamo prendere anche una pausa ma questa cosa poi apre secondo me anche uno spazio perché appunto ritornando a uno vale uno quindi su 196 paesi tutti veramente dal più grande al più piccolo da quello più ricco a quello meno ricco valgono uno ed è quella veramente la sede dove questa cosa viene rispettata però non si possono trattare situazioni diverse in modo uguale quindi paradossalmente quello che dicevi questo simbolo di questo scienziato che probabilmente nel suo piccolo tra l'altro magari è anche venuto da solo si è prenotato anche l'aereo da solo altro che circa che c'è tutto intorno era però lì ad aspettare a fare la fila significa anche che poi anche a livello governativo di delegati molto spesso quelli che rischiano di più quelli che soffrono di più sono anche quelli che in qualche modo hanno più difficoltà a farsi sentire anche logistiche a volte ad arrivare ed è qui che non si può trattare sì è vero la giustizia sociale non solo bisogna trattare in modo uguale situazioni uguali ma non si può trattare in modo uguale situazioni diverse e questo nella giustizia climatica ci deve entrare soprattutto in seno ad un ad un circo in questo caso politico mediatico come la copp ma se tu rischi di affondare di sparire di diventare fondale marino non puoi avere lo stesso peso di uno stato che invece magari ha la fortuna di non solo essere ricco non solo magari di avere le migliori tecnologie al mondo ma magari di essere anche meno toccato dalla crisi climatica perché si trova in una regione che guarda caso non ha ancora subito gli eventi estremi ecco in questo caso tu stato ascolti che hai subito queste cose che non stai subendo queste cose e ascolti la voce invece di chi le sta subendo e anche questo secondo me poi certo il consenso è molto importante però veramente nelle coppe soprattutto in una situazione di crisi climatica di emergenza che stiamo vivendo chi subisce di più non può valere come se fosse uno stato una persona una comunità qualunque questo secondo me è quello che dovremmo e si dovrebbe far passare come messaggio e si scendere